Allora, loro sono venuti per una segnalazione fatta da una pseudo-associazione non iscritta neanche alle associazioni dei consumatori, formata da praticamente nessuno, ed è la stessa persona che fa tutte queste denunce e segnalazioni dell'amministrazione su cose su cui hanno anche delle querelle pendenti. Ed è un'associazione che si chiama Feder Contribuenti, ma non è un'associazione perché non è neanche iscritta nell'albo regionale. Sono due persone ben conosciute a Padova, tra cui anche l'ex portavoce dell'ex sindaco Rossi, che hanno fatto questa cosa squalificando il corpo della polizia municipale, facendo attaccare il sindaco su una cosa veramente ridicola, perché è vero che era stata fatta una delibera di giunta comunale, peraltro cosa che veniva fatta normalmente negli anni precedenti. Cioè ci sono delibera negli anni precedenti dove la polizia municipale, anche a spese del comune, andava a fare delle manifestazioni sportive e così. Quindi è stata prevista per il giubileo e così. Quando io ho visto la delibera, ho chiesto alla polizia, io ho chiesto alla polizia, e nessuno può dire il contrario, perché anche gli stessi agenti sa che è andata così, ho chiesto alla polizia municipale, guardate, questa è un'amministrazione che abbiamo detto francescana, cioè il sindaco, come dicevo prima, il sindaco va via con la sua macchina, non si fa rimborsare nulla, gli assessori lo stesso. Una cosa così, anche se, diciamo, postarci, è meglio non... E quindi, se volete andare, andate pure volentieri, portate avanti il nome dell'amministrazione, e hanno mandato una lettera dicendo che andavano a spese proprie. Non abbiamo revocato la delibera, semplicemente perché era superata. Cioè, siccome la delibera è un atto di indirizzo, va bene, non è che se dopo non vengono poi impegnati quei soldi là, viene cancellata la delibera, siccome la manifestazione è stata fatta, cioè, dopo, per l'anno giubilare c'è stato questo percorso che hanno fatto i nostri agenti, aveva finito temporalmente la sua efficacia. E le Iene dicevano, no, ma c'è la delibera, quindi i soldi sono stati spesi, e gli ho dimostrato i documenti e tutto, ma erano talmente fissi in questa cosa, ma secondo me, talmente anche disinformati da parte di questa gente che fa le cose fatte male, è stranissimo che una trasmissione così prenda una sola alla romana di questo tipo.